Salve a tutti. Ho riflettuto anche altre volte su un passo che ha citato l'Apostolo Paolo, dicendo Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco, questo passo mi costringe a riflettere. Perché l'Apostolo Paolo diceva Non sono più io che vivo. Questa direi che è una cosa, da un punto di vista, estremamente nuova. Perché l'Apostolo Paolo diceva Non sono più io che vivo. Normalmente noi siamo abituati a vivere noi e noi stessi. E' una cosa, oserei dire, scontata, ovvia. Però, perché l'Apostolo Paolo diceva Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questo passo fa comprendere che esiste una nuova vita. L'Apostolo Paolo, nel dire Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, stava dichiarando che vi era una nuova vita che viveva in Lui. E questa nuova vita era il Cristo. E nel citare questo, quello che mi sorprende è che fa proprio un taglio netto. Perché dice in maniera chiara e netta Non sono più io che vivo. È un'affermazione, diciamo, oserei dire, particolare. Perché è una cosa ovvia e normale che noi umanamente diciamo Ma sono io che vivo in me. Però, perché l'Apostolo Paolo dice Non sono più io che vivo. Ma Cristo vive in me. Facciamo fatica a dire che l'Apostolo Paolo, che questo passo non è vero, che l'Apostolo Paolo non stava dicendo la verità. Io direi che è insensato mettersi a dire che l'Apostolo Paolo non stesse dicendo la verità. Però, se stava dicendo la verità, lui stava dichiarando, stava dicendo, che non era lui a vivere in sé medesimo, ma Cristo viveva in lui. Penso che questa parola si abbini benissimo con l'altra parola che disse l'Apostolo Paolo e disse, Cristo è in voi, certezza di gloria, speranza di gloria. C'è gloria se vive Cristo nell'uomo, in noi. C'è gloria, c'è certezza di gloria. Perché se Cristo vive in noi, c'è gloria. E tutto questo piace a Dio. Perché Dio Padre disse, ecco il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto. Perciò, se Cristo vive in noi, si è graditi a Dio. Si è nella giusta posizione. E la giusta posizione è questa. Che non sia l'uomo a vivere, ma Cristo a vivere. Paolo disse, non sono più io a vivere, ma Cristo vive in me. E tutto funziona bene. Tutto funziona alla perfezione. Se Cristo vive. Perché se Cristo vive, quello che Cristo fa è un qualcosa di perfetto. E si comprende meglio questo leggendo anche prima Giovanni. Che vi è una nuova natura che non pecca. Quando l'Apostolo Paolo diceva, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, la vita di Cristo, il vivere di Cristo, era peccato? Assolutamente no. La vita di Cristo è gloriosa, è approvata da Dio. Potremmo dire che è la vita di Cristo, la luce di Cristo, che fa vedere che l'uomo è peccatore. Nella verità, il vecchio uomo, possiamo chiamarlo così, non è degno di vivere. Se vive, pecca. E pecca continuamente. Perché fa parte, è come dire, della natura decaduta di Adamo. Però Dio gradisce vedere la nuova natura. Dio gradisce vedere nell'uomo la nuova natura, cioè la natura di Cristo. Che Cristo viva. E' un passo molto piccolo, ma penso che sia estremamente carico di significato. Se l'Apostolo Paolo ha dichiarato, non sono più io che vivo, vuol dire che lui realmente era consapevole che lui in sesto medesimo non viveva. Ma viveva Cristo. E la cosa bella è che quando vive Cristo, si vive per davvero, perché è la vera vita. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E diventa un muoversi completamente diverso, perché la vita di Cristo si muove in un modo completamente diverso. Il muoversi di Cristo è un muoversi gradito a Dio, gradito al Padre. Il muoversi di Cristo è un muoversi gradito, ed è un muoversi glorioso. Altrimenti l'Apostolo Paolo non avrebbe detto Cristo in voi speranza di gloria, certezza di gloria. Perciò, se si realizza questo, se veramente uno capisce queste cose e vuole fare la medesima esperienza dell'Apostolo Paolo, la potrà fare, la potrà fare e tutto ciò è gradito a Dio. Perché questo è quello che Dio vuole. Quello che Dio vuole è che viva Cristo in noi, come viveva nell'Apostolo Paolo. Perché questa è la musica che piace a Dio. perché la vita del suo figliolo Gesù gli è gradita. Lo scopo di Gesù nel venire qui sulla terra fu quello di portare una vera salvezza. Sì, lo scopo di Gesù, lo scopo dell'avvenuta di Gesù qui sulla terra fu quello di portare una vera salvezza. Fu quello di portare, come dire, la sua natura che potesse vivere nell'uomo perché vi potesse essere gloria per l'uomo, vi potesse essere salvezza per l'uomo. Gesù fu veramente il salvatore. La sua motivazione per cui venne qui sulla terra fu quella per davvero di salvare l'uomo. Perché l'uomo con il suo vivere non poteva piacere a Dio. E' per questo motivo che è anche scritto che uno solo morì per tutti. E se Gesù morì per tutti significa in maniera molto chiara che tutti agli occhi di Dio erano degni di morte. tutti agli occhi di Dio erano degni di morte. Perciò ci voleva un salvatore che portasse una nuova natura. Una natura che piacesse a Dio perché vi fosse salvezza. Allora questa piccola parolina data dall'Apostolo Paolo direi che è molto importante. Disse non sono più io che vivo ma Cristo vive in me. E tutto diventa bello in questa maniera. Tutto diventa bello. Tutto. perché quando vive Cristo uno è certo che è gradito a Dio. Perché si realizza il piano di Dio cioè si realizza la salvezza di Dio per fede. non sono più io che vivo ma Cristo vive in me. Mi viene in mente un piccolo passo che adesso non ricordo bene dove si trova che dice che i mansueti erediteranno. I mansueti erediteranno. Cioè chi sono i mansueti? I mansueti sono quelli che si lasciano prendere per mano da Dio. Questi sono i mansueti. i mansueti sono quelli che si lasciano prendere per mano da Dio. Forse è buono fare presente queste cose perché Dio le fa presenti. Nei Vangeli, nei quattro Vangeli che cosa ci fa vedere Dio? Dio ci fa vedere che degli uomini sono stati mansueti, cioè si sono lasciati far prendere per mano da Gesù. Invece vi erano altri uomini che non si lasciavano prendere per mano da Gesù ma contestavano Gesù. E mi piace anche quella dichiarazione fatta da Gesù che disse se non mutate e non diventate come dei bambini voi non entrerete nel regno dei cieli. E direi che c'è una cosa molto interessante dei bambini che sto pensando in questo momento. Io ho avuto tre figli e in pratica sono stati tre bambini e adesso sono grandi. Ma una caratteristica dei bambini è proprio quella di farsi prendere per mano. Una caratteristica dei bambini che ha dei figli lo può vedere con molta chiarezza che i bambini si fanno prendere per mano perché dicono ma io non conosco niente tu papà conosci tutto molto spesso bambini pensano ragionano così e bene c'è un passo che dice che i mansueti erediteranno e i mansueti sono quelli che si fanno prendere per mano da Dio da Dio Nei Vangeli che cosa si vede si vede che Gesù si rivolge a degli uomini e ci sono stati degli uomini che hanno accettato di farsi prendere come dire per mano da Gesù altri no e perciò io credo che anche ora mentre che sto come dire dichiarando queste cose ci sono delle persone che accetteranno di essere mansuete nei confronti di Dio io credo questo perché questo è quello che insegna la scrittura fa vedere che vi è un'enorme benedizione per i mansueti cioè quelli che si lasciano prendere per mano da Dio e a un certo momento l'Apostolo Paolo prima era chiamato Saulo a un certo momento ebbe l'incontro con Gesù e da quell'incontro accettò da quel momento accettò di essere come dire preso per mano da Gesù e arrivò a un certo momento che fece questa dichiarazione non sono più io che vivo ma Cristo vive in me perché la vita che bisogna vivere deve essere la vita di Cristo Cristo si deve muovere nei cristiani perché chiamarsi cristiani se Cristo non vive direi che il nome cristiani sta bene a quelle persone nelle quali Cristo per davvero vive allora sì che sono veramente cristiani ma se ancora l'io a vivere il vecchio uomo a vivere l'adamo vecchio in realtà non si è cristiani per essere veramente cristiani bisogna proprio che Cristo viva nell'uomo come viveva come dire nell'Apostolo Paolo perché l'Apostolo Paolo l'ha dichiarato non sono più io che vivo ma Cristo vive in me e come ho detto prima in questa maniera si è veramente graditi a Dio perché Dio gradisce la vita del suo figliolo perché Dio padre disse ecco il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto mi viene in mente un passo che mi fa piacere leggere che si trova in Romani allora Romani capitolo 8 versetto diciamo dal versetto 26 dice così parimente ancora lo spirito inteso per lo spirito santo sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene allora già qui si vede che noi l'Apostolo Paolo diceva dichiarava capiva sapeva che lui non sapeva pregare lui lui ha fatto questa dichiarazione perché noi non sappiamo pregare come si conviene l'Apostolo Paolo era consapevole di questo ma c'era un però prima ancora dice parimente ancora lo spirito c'è lo spirito santo sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene allora qui si vede si vede la nuova vita cioè la vita dello spirito di Dio la vita dello spirito di Dio che Dio ha mandato perché ci aiuti perché viva in noi parimente ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo come pregare non sappiamo pregare come si conviene ma ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili allora qui Dio ci ha dato come dire una persona che ci sostituisce una persona cioè la persona dello spirito santo che prega per noi intercede per noi ripeto la lettura parimente ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza fa le cose che noi non siamo in grado di poter fare che non riusciamo a fare parimente ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene ma lo spirito intercede egli stesso per noi e direi che è interessante tutto questo cioè intercede per noi cioè fa qualche cosa che noi non potevamo fare non riuscivamo a fare qualcosa di utile che noi non riuscivamo a fare ma lo fa per noi cioè noi ne usufruviamo i benefici cioè lo spirito prega per noi intercette per noi e noi ne godiamo i benefici e questo discorso qui che è scritto i romani lo fece sempre l'apostolo Paolo ispirato dallo spirito santo parimenti ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza se l'apostolo Paolo era debole riconosceva di essere debole riconosceva di non essere in grado io direi che è follia pensare che noi pensiamo di essere in grado dovremmo dovremmo dire anche noi io non ci riesco perché sono debole no non ce la faccio non ci riesco però 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 vi è la salvezza di Dio lo spirito santo che Dio ha mandato proprio per essere il nostro aiuto colui che intercede per noi presso Dio e questo diventa un carico dolce e leggero perché questo carico lo porta un'altra persona per noi e noi ne godiamo i benefici parimente ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene ma lo spirito intercede intercede egli stesso per noi e direi che qui diventa interessante perché se c'è qualcuno che intercede per me a me questo fa piacere mi fa piacere perché questo fa parte della benignità di Dio cioè Dio è stato così benigno da mandare lo spirito di Dio perché lui intercede interceda per me e non posso dire che io riesco a pregare meglio dello spirito di Dio non posso assolutamente dirlo sarebbe follia è bello sapere che c'è questa situazione che Dio ha preparata se Dio ha preparato lo spirito santo per tutti gli uomini per tutti quelli che lo ricevono perché lo spirito di Dio lo riceveranno i mansueti cioè quelli che ubbidiscono a Dio lo spirito di Dio lo spirito santo è pronto per tutti ma lo riceveranno quelli che accettano di ubbidire a Dio i mansueti erediteranno allora volevo continuare nella lettura lo spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene ma lo spirito intercede gli stessi per noi con sospiri ineffabili e colui che investiga i cuori conosce quale sia il sentimento dello spirito e bene colui che investiga i cuori e chiaramente Dio il padre conosce quale sia il sentimento dello spirito cioè di quella nuova vita che Dio ci ha donato e questa nuova vita che Dio ci ha donato che è in noi lo spirito di Dio lo spirito santo è qualcosa che è gradito a Dio perché dice conosce quale sia il sentimento dello spirito perché esso intercede per i santi secondo Dio cioè intercede parla suscita dice delle parole che sono gradite a Dio quando Gesù pregava quello che lui diceva era gradito a Dio perché Dio il padre disse ecco il mio diretto figliolo nel quale mi sono compiaciuto quello che Gesù diceva era gradito a Dio ebbene Dio vuole che questo accada anche per i cristiani per quelli che vogliono essere cristiani or noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio e in realtà chi sono quelli che amano Dio quelli che hanno lo spirito di Dio quelli che hanno lo spirito santo perché lo spirito di Gesù Gesù amava il padre e se uno ha lo spirito di Dio ama Dio perché è lo spirito santo che ama Dio noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo onde egli sia il primogenito fra molti fratelli ebbene io personalmente volevo arrivare proprio qui a questo passo qui perché questo è il programma di Dio e se uno rifiuta di essere in questo programma non è gradito a Dio perché il programma di Dio è che ci sia Cristo in tutti perché Dio ha stabilito che tutti somiglino a Gesù perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo onde egli sia il primogenito fra molti fratelli ebbene i fratelli di solito si somigliano no se uno è veramente fratello se uno ha veramente dei fratelli quei suoi fratelli gli devono sovegliare ebbene qui bisogna veramente somigliare a Gesù ci deve essere veramente qualcosa di Gesù in noi ci deve essere veramente la presenza di Gesù in noi perché questo fa parte della salvezza di Dio perché come in Adamo tutti quanti ora sappiamo che somigliamo ad Adamo tutti discendiamo da Adamo ma ora qui si parla che c'è il salvatore del mondo che ha veramente portato la salvezza e la salvezza si deve come dire sviluppare in noi formando il Cristo in noi speranza di gloria allora volevo concludere la lettura anche se non facevi conti di fare molti commenti e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati qui si vede il programma che Dio ha per tutti gli uomini bisogna chiedersi ma tutti gli uomini accettano di entrare in questo programma di Dio perché il programma di Dio è quello di che ci sia Gesù con i suoi fratelli cristiani che gli somigliano che c'è Cristo in loro allora penso che questo si realizzi proprio con il passo iniziale che ho citato dell'apostolo Paolo perché è così che si somiglia Gesù si somiglia Gesù lasciando che sia lui a vivere in noi perché l'apostolo Paolo disse non sono più io che vivo ma Cristo vive in me se l'apostolo Paolo ha detto ciò significa anche che se era lui a vivere in sé stesso sarebbe stata una vita che somigliava ad Adamo il primo Adamo invece si vede che vi è una divisione che in pratica è una salvezza e l'apostolo Paolo disse non sono più io che vivo ma Cristo vive in me e direi che questa è una bella benedizione è una bella benedizione quella che Gesù possa vivere in noi Dio ci fa sapere queste cose proprio perché vuole che noi le realizziamo perché Dio il Padre vuole vedere il Cristo Dio Padre vuole vedere il Cristo in noi è buono comprendere questa cosa perché come ai tempi di Gesù Dio fece sentire la sua voce e la sua voce la voce di Dio dichiarò ecco il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto Dio Dio fece sentire la sua voce e dichiarò queste parole ecco il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto ebbene Dio ora ora vuole vedere il Cristo in noi perché così Dio si compiace è compiaciuto e questo si realizzava nella vita dell'Apostolo Paolo difatti l'Apostolo Paolo l'ha dichiarato e Dio ha voluto che quelle parole dell'Apostolo Paolo fossero conservate perché sono parole di verità perché Dio vuole portare la verità anche agli altri allora Dio gradisce si compiace nel vedere il Cristo Dio gradisce questo approva ciò lo approva e vuole che ciò si realizzi che non sia più il vecchio uomo a vivere ma la vita nuova cioè quella di Cristo come accade l'Apostolo Paolo che disse non sono più io che vivo ma Cristo vive in me se accade tutto ciò vi è l'approvazione da parte di Dio è buono riflettere su questa cosa perché vi è per davvero l'approvazione di Dio perché ci fu l'approvazione di Dio verso il suo figliolo Gesù Cristo ecco il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo e quelli che lo ascoltarono furono come dire trasformati e nel libro degli atti ha detto si riconosceva che erano stati con Gesù si riconosceva gli altri lo vedevano lo capivano perché erano delle persone dei popolani senza istruzione però pur essendo dei popolani senza istruzione si riconosceva che erano stati con Gesù ed è questo scritto nel libro degli atti allora Dio gradisce tutto questo Dio gradisce la presenza del suo figliolo negli uomini nei cristiani cioè che i cristiani siano veramente a tutti gli effetti cristiani cioè che il Cristo sia il loro così si è graditi a Dio Cristo in voi certezza di gloria allora volevo concludere capisco che questa mia meditazione ha come perno principale quel passo dove l'apostolo Paolo disse non sono più io che vivo ma Cristo vive in me e direi che tutto ciò è prezioso è prezioso perché è preziosa la vita di Cristo la presenza di Gesù è preziosa ed è la sua presenza la sua vita il suo vivere nei cristiani che è gradito Dio ed è questo il piano di Dio la salvezza di Dio la gloria di Dio anche per gli uomini Dio vuole che la sua creatura sia gloriosa e i veri cristiani sono gloriosi agli occhi di Dio perché c'è il Cristo in loro certezza di gloria il programma di Dio è questo e si realizza riconoscendosi proprio dei peccatori anche Pietro a un certo momento riconobbe di essere veramente un peccatore se uno si riconosce veramente peccatore è come se dicesse io non sono degno di vivere bisogna arrivare a questo punto io non sono degno di vivere e la verità è proprio questa la verità è proprio questa perché agli occhi di Dio l'uomo realmente non è degno di vivere perché altrimenti Gesù non sarebbe morto al posto dell'uomo uno solo morì per tutti quindi tutti meritavano di morire se Gesù morì per tutti è perché tutti meritavano di morire ma Gesù morì per tutti perché vi fosse salvezza per tutti perché vi fosse la sua vita per tutti e riconoscendo di essere dei peccatori mutando come disse Gesù diventando come dei bambini si riceve la nuova vita che Dio ha preparato per quelli che gli ubbidiscono lo spirito di Dio lo spirito santo che vive nell'uomo lo spirito di Cristo che vive nell'uomo e che in questa maniera è salvezza per l'uomo in Cristo Gesù Amen Prendi la mia vita prendi la Signor e la tua fiamma bruci nel mio cuore tutto l'essere mio vibri per te sì mio Signore e divino re di l'uomo Grazie a tutti